Il mondo intorno a te, parla, ascoltalo, fallo con gli appariti acustici di Acoustical. Sono veri e propri microcomputer multifunzionali applicati all'orecchio. Per informazioni 379 16 65 428. Buone notizie per la tratta Cedegoloidolo in Valle Camonica. In questi giorni sarebbe arrivata la comunicazione da parte di Ferrovie Nord Milano e Trenord della riapertura della tratta chiusa in seguito all'incidente ferroviario dello scorso primo dicembre, che a causa dell'impatto di due automotrici con due massi staccatisi dalla parete rocciosa sopra la galleria, aveva portato allo svio di queste ultime, a poche decine di metri, dalla stazione di Cedegolo. La conclusione dei lavori di messa in sicurezza della galleria Stellero 1 e di rilascio dell'Unlaosta per la circolazione sul tratto consentiranno nuovamente il passaggio dei treni dal 13 giugno. Quella mattina la carrozza era partita poco prima delle 6 da Edolo in direzione Brescia, con a bordo una dozzina di pendolari, nessuno rimasto coinvolto nel deragliamento. Nelle settimane successive, dopo la rimozione dei convogli incidentati, lo sgrattolamento dei massi caduti e di ripristino del tratto di binario danneggiato, si è passati i lavori di messa in sicurezza della galleria e del versante roccioso per scongiurare ulteriori cedimenti. Da dicembre fino all'11 giugno il treno è stato dunque sostituito dal servizio autobus che ora verrà soppresso. Con il cambio orario sarà inoltre ripristinata l'offerta pre-covid. I treni della linea locale torneranno a raggiungere Breno e non avranno più capolinea a Darfo. Verrà rimosso anche il servizio di bus sostitutivi, ora attivo, fra Darfo e Breno. Lavoro in corso al via da questo lunedì 13 giugno fino a venerdì 15 luglio sul tratto fra sale Marasino e Pisogne. Su disposizione del gestore dell'infrastruttura Ferrovie Nord è stata risposta alla sospensione della circolazione dei treni nei giorni feriali tra le ore 9 e le 17 per garantire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria. Le corse interessate saranno dunque sostituite con autobus. Infine, buone notizie per la flotta di Trenord che si allarga. Da 12 giugno fra Bergamo e Brescia inizieranno a circolare i treni monopiano Donizetti di Trenord che entro il mese di luglio arriveranno ad effettuare 14 corse al giorno, il 41% dell'offerta. Tutte le informazioni sul nuovo orario sono consultabili sul sito trenord.it